Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, grandissimi e da tantissimo tempo che non portavo sul mio canale youtube un full day of eating infatti a grandissima richiesta da parte vostra, oggi vedremo una mia giornata tipo vi farò vedere tutti i vari pasti dalla mattina fino alla sera, un full day of eating in definizione oserei dire definizione estrema perché siamo precisamente a una settimana dal palco, dal palco del Rimini Wellness il palco più bello in assoluto qua in Italia, quindi potete solo immaginare quanto io sia gasato è un'emozione unica, comunque come potete vedere qua davanti a voi abbiamo un palco alimenti abbastanza ristretto come fonti di carbo, prote e grassi attualmente sto facendo tre pasti durante la giornata, quindi la colazione che coincide con il pasto pre-workout il pranzo che coincide con il pasto post-workout e poi prima di andare a dormire, un paio di orette prima di andare a dormire faccio l'ultimo pasto per completare tutte le calorie ma soprattutto non sforarle perché questa settimana, questa peak week è una settimana di ricarica, una ricarica graduale sto parlando solo di carboidrati, quindi l'obiettivo è salire sul palco nella mia best shape di sempre sto cercando di superare la condizione dell'anno scorso che mi sicuro era tanta roba però pesavo di meno, ora come ora sono un po' più pesante, stiamo parlando di un chietto in più rispetto all'anno scorso infatti andiamo a pesarci a 86.2 infatti se vi ricordate bene l'anno scorso sono salito sul palco tra gli 85 e gli 86 con la ricarica quest'anno l'obiettivo è quello di salire tra gli 86 e gli 87 al termine di questa ricarica graduale più incisivi, più pesanti, un po' più grossi ma sempre tirati il giusto ricordatevi che il man physique è un canone estetico quindi non dovete solo essere grossi ma dovete essere tirati il giusto ci deve essere la giusta simmetria, dovete essere armonici, estetici, belli da vedere sicuramente non troppo tirati ma nemmeno troppo alti con l'ABF di conseguenza è un insieme di fattori molto importanti che creano quell'equilibrio, quell'armonia sul palco che deve avere un atleta che greggia come man physique i man physique allenano anche le gambe mi raccomando quindi non definite la categoria per chi non ha le gambe anche se in quest'ultimo mese con il coach ci siamo concentrati molto su quelli che sono i full upper body workout quindi tutto quello che riguarda i distretti muscolari della parte superiore del corpo ovviamente ho allenato anche i polpacci però per entrare nel costume e non avere il costume troppo pieno perché anche lì in quel caso potresti essere penalizzato nelle federazioni natural le gambe non le tocco da un mese comunque con il codicepite femorale non li tocco da un mese detto ciò non perdiamoci in chiacchiere abbiamo tre pasti, il primo è la colazione sono precisamente le 7 del mattino ormai lo sapete bene, il mio protein pancake d'eccellenza non può mai mancare ragazzi me lo chiedete in tantissimi è sempre la stessa ricetta allora abbiamo il pancake proteico base albume, classico albume d'uovo farina integrale di grano tenero un po' di cacao amaro cannella all'interno ci metto una banana tagliata a monetine poi un po' di dolcificante 0 calorie bicarbonato che vado ad attivare con del succo di limone quindi veramente classicissimo e sopra burro dei rachidi all'interno aggiungo anche un po' di bevanda vegetale oltre al burro dei rachidi sopra frutti di bosco a scelta a piacimento quindi abbiamo lamponi, mirtilli, limone, quello che preferite ragazzi pancake proteico semplice ma allo stesso tempo buono, squisito, delizioso con degli ottimi valori nutrizionali prima di cimentarmi a creare questo capolavoro perché ragazzi io lo considero veramente un capolavoro dovrò aprire più avanti una sorta di bar, una sorta di locale dove produco pancake proteici questa è la mia missione check fisico a 86.2 come avete potuto vedere vi ripeto che voglio salire col peso e stare più incisivo quindi adesso vi faccio un giro di pose sia semirilassate che muscolari partiamo frontale quest'anno sfiancata quindi contrazione del petto laterale destra back in questo caso c'è una back double biceps e finiamo laterale sinistra torniamo frontale espansione toracica tricipite addome intercostali spero che questo posing riformulato vi sia piaciuto ho già il fiatone e avrò bruciato tantissime calorie comunque a parte gli scherzi creiamo questo capolavoro proteico vi ricordo amici per chi fosse interessato al coaching online e alle programmazioni vi lascio il sito di Fiterit qua sotto link in descrizione armiamoci di bilancino 250 ml di albume oh raga se sforate di 5 grammi c'è tranquilli basta che non sforate di 5 grammi col sale 80 grammi di farina integrale quest'anno sono anche un po' più tranquillo con le quantità perché appunto vi dicevo non avendo affrontato un vero e proprio periodo di massa spinto come l'anno scorso quest'anno con il coach abbiamo optato per un clean bulk quindi una massa pulita meno fatica per scendere poi proseguiamo con 8 grammi di cacao amaro oggi non ne azzecco una come vi dicevo un pizzico di cannella ragazzi imparate a memoria tutti i passaggi una spolverata un cucchiaino di stevia adesso mischiamo il tutto allora io la mattina ogni volta dedico mezz'oretta alla preparazione di questo pancake proteico ma ragazzi vi assicuro che iniziare la giornata in questo modo creando questo capolavoro mi carica tantissimo mi gasa proprio poi amo cucinare quanto è fortunata la mia ragazza che ogni mattina lì prepara un pancake proteico prestate attenzione visto che mi chiedete ma come fai a venirti così alto ecco qua il segreto quindi un bicarbonato da cucina un pizzico diciamo un cucchiaio piccolino che viene attivato con del classico succo di limone ecco qua vedete che fa la schiumetta significa che è stato attivato a questo punto vado a occhio nemmeno lo peso abbiamo 30-40 ml di bevanda vegetale proseguo mischiando il tutto preriscaldiamo il padellino occhio alle tavoliette prima che si bruciano massa pulita sicuramente è la cosa migliore ovviamente ragazzi in un periodo di massa non dovete aver paura di mettere peso non dovete esagerare dovete fidarvi di un occhio esperto che in teoria dovrebbe essere il vostro coach però vi assicuro che quando dovete affrontare poi una fase di discesa avvicinamento al cat e cat vero e proprio è molto meno stressante infatti quest'anno come potete vedere il viso sta meglio io sono più attivo più energico non soffro più di tanto la fame e il corpo diciamo che regisce molto molto meglio ho mantenuto anche la forza sto sollevando quasi gli stessi carichi di con del 95 kg la panca piana è un po' scesa anche la military dei pine è un po' scesa però tendenzialmente 95% dei carichi li ho mantenuti ed è molto importante in un periodo di deficit mantenere carichi buoni perché appunto dobbiamo far uscire le fibre dobbiamo essere belli definiti e far vedere le intersezioni muscolari dopo due ore mi raccomando due ore no scherzando ci mettete veramente due minuti qua abbiamo preriscaldato il padellino ci vado a mettere un goccio d'olio che poi vado a pulire perché non voglio calorie in eccesso soprattutto grassi versiamo metà preparato solo metà quindi interrompiamo un attimo mi raccomando fiamma bassa pezzettini piccoli ricordatevi che la banana dovrà cuocersi poi all'interno del pancake cioè raga va che chicchie che chicchie che vi sto insegnando si lo so magari la mattina molti di voi dicono è una rottura svegliarsi prima mezz'ora prima per farsi un pancake e mi alzo metto latte e biscotti latte e cereali si raga però non è la stessa cosa poi vi assicuro fare questo pancake che vi dà una carica pazzesca a provare per crederci cerchiamo di coprire bene tutta la banana con il resto del preparato adesso copriamo e aspettiamo 5 minuti da un lato e altri 4 minuti all'altro ok ragazzi prima di tutto volevo presentarvi la vazza a modo mio il mio ultimo acquisto ne sono molto fiero fa degli ottimi caffè infatti la mattina non manca mai colazione adesso io ho preso queste due spatole perché sono un incompetente però sono utili a questo punto possiamo procedere a girare il nostro pancake proteico con questa lo alzo però se lo giro con questa si sfalda quindi lo alzo inserisco questo e solo a questo punto voilà ovviamente ragazzi nella mia cucina non poteva mancare lo spazio dedicato a foodspring comunque questa è la mia attuale integrazione come potete vedere creatina multivitaminico abbiamo arginina aminoacidi glutamina insomma chi ne ha più ne metta questi li sto utilizzando tutti per quanto riguarda le whey attualmente noi in questa fase super super delicata perché cerco di trarre tutte le proteine dal cibo solido procediamo con il coffee quanto è soddisfacente questo momento e voilà e anche il caffèrino ragazzuoli è bello che pronto il caffèrino è pronto il nostro protein pancake anche quindi andiamo a metterlo sul piatto e voilà da notare ragazzi il set tazza tazzina in palette pazzesco scegliete un burro di arachidi bio questo è fondamentale ne metto all'incirca 80 grammi tanto per 80 grammi di burro di arachidi dovrei avere 40 grammi di grassi distribuiamo il nostro peanut butter godetevi questo capolavoro e io direi di azzannarlo perché la mattina ho una fame pazzesca è veramente un capolavoro ottimo estetico veramente tanta roba ripeto con degli ottimi valori intuizionali è una colazione perfetta magari alcuni dicono sì ma non riesco a mangiare tutta sta roba raga avete visto si tratta solo di albume e farina integrale comunque azzanniamolo guardate qua questo pezzettino bellissimo provatelo taggatemi nelle vostre ricette e mi raccomando seguitemi anche su instagram hashtag capolavoro di bontà prima di procedere anche con l'ultimo boccone ragazzi volevo spendere due parole per quanto riguarda quest'ultima preparazione l'avete già capito l'ho gestito in modo completamente diverso rispetto alla scorsa prep appunto perché alla scorsa prep ero partito da un peso veramente molto alto sono dovuto scendere molto gli ultimi due mesi sono stato a 1.9 1.9 per me è un ragazzo alto 1,90 è veramente poco quindi l'anno scorso diciamo che ho patito tanto tanto la fame lo ammetto comunque è un periodo veramente molto difficile se devi metterti lì a lavorare al pc comunque fare coaching online ti devi concentrare è tosta ragazzi perché ti viene anche mal di testa ti vengono le tacche di fame quindi è innegabile una prep è una cosa veramente molto molto tosta rigida devi essere preciso però quest'anno io sto a 2.002 e adesso sto affrontando un periodo di ricarica stando intorno alle 2.005 2.006 al giorno quindi non dico che me la stia passando benissimo sopra le 3.000 però comunque sto bene mi sento forte mi sento ancora performante vedete che sono lucido pensate che l'anno scorso avevo così tanta fame ero così tanto low che facevo fatica a parlare in certi momenti facevi proprio fatica a parlare il cervello pensava ma non riuscivi a parlare talmente di stanco quest'anno è tutta altra storia è vero sono più grosso probabilmente sono meno tirato rispetto all'anno scorso però con le dovute modifiche al posing con la mia condizione attuale le varie separazioni tra i distretti muscolari voglio essere ancora più incisivo e non per forza devo essere così tirato e scendere così tanto quindi ragazzi mi raccomando la vera condizione che parla è quella che porterò sul palco io darò il massimo come sempre sono praticamente a un chilo in più rispetto all'anno scorso quindi accettabile ho le spalle ancora rotonde ho conservato delle buone braccia sono veramente contento di questa prep per quanto riguarda invece la scelta degli esercizi io vedete che non ho mai smesso di fare esercizi come panca piana military press dai pin lento avanti dai pin chiamatelo un po' come volete col bilanciere alzate laterali mi sono specializzato su determinati esercizi ho cercato di mantenere i carichi buoni comunque più alti possibile ricordatevi che quando stai in massa o comunque stai in surplus è più facile progredire con i carichi mentre quando sei in deficit soprattutto in un deficit bello pesante e duraturo diventa molto molto difficile mantenere gli stessi carichi già mantenere gli stessi carichi che avevo in un periodo di massa è buono infatti 95% dei carichi mantenuti alla grande esercizi come panca piana per esempio non l'ho mai abbandonata perché mi dà tanto a livello di forza mi dà tanto a livello ipertrofico sento ricadere un sacco lo sforzo sul petto ovviamente tutti i muscoli coinvolti nella fase di spinta ci sono quindi stiamo parlando di deltoidi tricipiti è innegabile però sento veramente il petto ogni volta stra pieno di crampi lo potete vedere anche su instagram ha dei doms pazzeschi quindi non ho mai smesso di fare questo esercizio così come anche altri cioè se voi mi dite smetti di fare alzate laterali fai un altro esercizio ragazzi per potenziare soprattutto la porzione laterale della spalla per me le alzate laterali sia al cavo che con i manubri sono essenziali mi sono specializzato tanto su determinati esercizi e sto cercando di affinare sempre di più la tecnica sempre di più quella che è la connessione mente-muscolo e ricordatevi che c'è gente che non abbandona mai la panca piana e continua sempre a migliorare la tecnica sempre a progredire col carico stiamo parlando sempre dello stesso esercizio l'importante è eseguirlo correttamente quindi tecnica impeccabile riuscire a progredire col peso e soprattutto sentire lavorare il muscolo target quindi una forte connessione mente-muscolo non si impara da un giorno all'altro nemmeno da un mese all'altro si impara nel corso degli anni quindi mi raccomando portate pazienza e cercate di comprendere questa mia scelta degli esercizi in vista della gara non ho avuto due anni per fare questa prep ho avuto l'incirca da ottobre a giugno quindi stiamo parlando di 8-9 mesi di preparazione detto ciò mangio anche l'ultimo boccone di protein pancake e noi ci vediamo dopo ragazzi perché in questo momento io sto facendo il primo workout della giornata avete capito bene il primo workout della giornata subito dopo il primo posto quindi subito dopo colazione oggi abbiamo se non sbaglio dorso quindi delle remate belle pesanti e del tori di posteriori ci vediamo dopo ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, siamo ufficialmente tornati dalla palestra dopo il nostro workout, siamo pronti per mangiare il secondo pasto della giornata, il pasto post-workout precisamente. Guardate un po' qua che capolavoro estetico e non solo, anche di bontà, proprio come la colazione. Qua abbiamo all'incirca 70 grammi di riso venere come ottime fonti di carbo, poi 140 tonno sgocciolato all'olio d'oliva. Ovviamente ragazzi, mi raccomando, ricordatevi che il tonno comunque rimane impregnato d'olio, quindi le calorie sono abbastanza alte. Poi avocado, anche questo fantastico, mi piace un sacco come sapore, ottime fonti di grassi. Una pallina di Philadelphia Light e sopra un po' di cremina di avocado sparso qua e là. Ragazzi, estetico, gustoso, buono. Si tratta di un mix di sapori che mi fa veramente impazzire. L'ho copiato dalla mia ragazza perché la vedo sempre fare queste bowl. Vedete che l'approccio è completamente diverso ragazzi, se fate un bulk controllato, un clean bulk, la potete gestire in questo modo. La scorsa prep mi sognavo di mettere una pallina di Philadelphia Light oppure la cremina all'avocado o nella peak week di ricarica aggiungere il tonno sgocciolato all'olio d'oliva. Ragazzi, è una cosa che mi sognavo veramente. Invece in questa prep con il coach abbiamo preso scelte totalmente diverse, visto la partenza, visto come abbiamo gestito il tutto. Quindi è una vera e propria bowl di quelle che prendete al poké. Questa fase mi soddisfa pieno, da tutti i punti di vista. Le calorie sono quelle che sono, ve le metto sempre in sovraimpressione. Acqua e sale non mancano mai. Attualmente sto sui 6 grammi di sale e cerco di bere 5 litri d'acqua. Poi, subito dopo il pasto post-workout, cafferino con tic non manca. Prendo all'incirca 5 grammi di creatina, anche questa la trovate qua sotto, link in iscrizione, codice sconto da NFSG. Buon appetito! E siamo giunti precisamente al secondo workout della giornata. Avete capito bene, non mi basta dorso e dettagli posteriori di stamattina in sala pesi, ma mi alleno anche in casa a corpo libero. In questo caso andrò a fare un circuito per addome, anche in vista della gara. Quindi ragazzi, vedete, casca a pennello. E qua, amici, arriva un piccolo spoiler. Visto che su YouTube i miei allenamenti a corpo libero stanno riscuotendo ancora grande successo e ci sono molte richieste per nuovi video di allenamenti a corpo libero. Bene ragazzi, in questo periodo della mia vita su YouTube sto condividendo il mio percorso da natural bodybuilder. Presto, sul sito di Fiterit, verrà aperta una nuova sezione dedicata esclusivamente agli allenamenti in casa o con i pochi attrezzi che avete a disposizione, per esempio un paio di manubri, la sedia, gli elastici, esattamente come due anni fa quando ci allenavamo insieme a casa. Quindi mi raccomando, amici, rimanete connessi perché presto vedrete questa libreria di allenamenti in casa disponibile sul sito di Fiterit. In più vi spiego perché ho suddiviso questi due allenamenti durante la giornata. Semplicemente perché dopo dorso e posteriori non ero tanto carico, non avevo più di tante energie, ovviamente perché sono in deficit in vista della gara, quindi ho dovuto ricaricare col pasto post-workout. Adesso sono passate precisamente due ore dopo il pasto post-workout e posso allenare per bene l'addome. Casca a pannello perché appunto in vista della gara salire sul palco come man physique con un bel addome è proprio quello che mi serve. E' come ultimo pasto della giornata. Precisamente il terzo qua abbiamo una misera porzione di riso basmati come fonte di carbo. 280 grammi di petto di pollo, quindi classico. E tutto qua, semplicemente l'unica differenza è che per cucinare il pollo utilizzerò peperoncino di cayenna, paprika forte e un po' di curry. Ci metterò mezzo bicchiere d'acqua e diventerà una sorta di sughetto nel quale il pollo si impregnerà. Poi dopo che scollo il riso lo aggiungo sul pollo e diventa tipo una sorta di risotto un po' più buono. E' sempre riso col pollo ragazzi, quindi non cambia nulla, però è un pochino più saporito. Provare per credere. Vi mostro la mia tigre, cioè guardatelo. Un gatto bellissimo, poi è dolcissimo. I mencun sono fantastici. Vero, Damon? Comunque sta crescendo, cioè sta diventando, sta diventando enorme. Un pizzico di peperoncino di cayenna, un pizzico di paprika forte, un po' di curry. Ecco qua. Bandiera della Spagna. Con l'aggiunta dell'acqua è venuta una sorta di sughetto, con le tre aggiunte che vi ho mostrato prima. Quindi sicuramente ha un profumino migliore. Ha acquisito anche un po' più di sapore, rimanendo sempre del classicissimo petto di pollo. Là invece abbiamo il basmati che tra due minuti sarà pronto. Siamo giunti alla resa dei conti di questo riso basmati. Da notare il mio scolapasta, bellissimo. Poi è super comodo. Terminiamo il tutto versando le nostre ottime fonti di carbo. Ed eccoli qua. 70 miseri grammi di basmati. Adesso mischio un po' il tutto. Diventa veramente, veramente buono. Ve lo consiglio. Poi magari se non vi piace il piccante, non aggiungetelo. Mettete solo la paprika e il curry. Ovviamente qua l'olio, visto che ho finito i grassi della giornata, non lo andrò ad aggiungere. Però comunque rimane, vedete, impregnato in questa quetta. Che gli dà quel qualcosa in più. Cioè stiamo parlando dei soliti due ingredienti, però vi assicuro fa la differenza. Il piatto da pizza è immancabile. Queste sono tutte quantità che ingannano. Sembra un piatto veramente molto, molto grande. Però in realtà sono solo 70 grammi di riso. Aggiungo anche gli ultimi 3 grammi di sale. Queste bustine sono veramente molto comode perché riuscite a dosare il sale in modo veramente, veramente preciso. Una bustina è un grammo di sale. Una mela verde. Queste Granny Smith sono le mie preferite, anche se alcuni le trovano un po' acide, un po' aspre. E una spurzatina di ketchup zero. Permettetemelo. Il mio ultimo pasto per questa giornata di ricarica. Vi lascio qua le calorie in sovraimpressione. Direi ragazzuoli, azzagniamolo. Il polletto cucinato in questo modo diventa squisito. Bene ragazzi, e con quest'ultimo pasto terminiamo il nostro full day fitting in definizione estrema per la gara. Settimana di ricarica, quindi stiamo parlando della nostra peak week. Che dire, spero che apprezzate, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia tornato utile. Mi raccomando, vi chiedo il massimo supporto per questo mio percorso dove appunto sostengo, dando il massimo, dando tutto me stesso, il natural bodybuilding. Quindi ovviamente vi chiedo un bel like, un bel commento, condividete questo video, iscrivetevi al canale, ditemi la vostra e noi come sempre ci vediamo per forza al prossimo video. Grandissimi!